Sinistra o sinistra, mentre io decido come perdermi meglio, poi iscrivetevi al canale, dai che è anche gratuito, vai io vado di qua, mi sa che allora io vado di qui. Buongiorno e buon Ferragosto a tutti, stiamo lasciando la città di Fiorinzola d'Arda che è chiusa per ferie, tutto chiuso, cucina nell'ostello chiusa, pizzerie chiuse, ho trovato il cartello chiuso per ferie anche su una vending machine addirittura. E oggi si va a Costa Mezzana e si comincia a salire l'Appennino. Buon Ferragosto! Allora, tu torni a casa? Torna a casa prima che ti venga un infarto, va? Allora! 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 Sì, esponi ai tuoi brillanti idee su perché è lecito bere più birra al giorno mentre si fa la francigena. Eh? Sponi le tue brillanti idee circa birra e francigena. Perché quando si cammina tanto si perdono un sacco di sali minerali e quindi a fine tappa serve un po' di birra che li rientra bene. Quindi basta una al giorno. Cosa c'entra? Quando fai una tappa lunga tipo 31 km si possono bere anche due birre. Una ogni 15. Quindi due. Non mi hai convinto, mi spiace. Pazzesca! Io devo convincere a me! Corso.... E dopo 31 km eccoci finalmente a Costa Mezzana. Fine tappa odierna. Ca' balzellino che non è abbastanza che! Oh no! Grazie a tutti. Buongiorno, dopo una notte ristoratrice presso il convento di Renzo Piano, ripartiamo carichi di energia verso... Sivizzano! E via! Panorama! E là in fondo la Cisa. E là in fondo c'è anche Paolo però. Saluta Paolo! E là in fondo. E là in fondo. E là in fondo. E là in fondo. Oh! E là in fondo. E là in fondo. E là in fondo. Giulia, Giulia, vai di là dai. Giulia, Giulia, vai di là dai. Mossa a Pietà ti indico la via alternativa. No, nessuna pellegrinetta è stata maltrattata per guardare questo rigagnolo. Un'antenna forse. Un'antenna forse. E là in fondo. 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 del nostro cammino come potete notare dall'espressione della pellegrinetta oscura si aspettano 1500 metri di dislivello in salita e 800 in discesa per arrivare a l'intervento ce la faremo io no ma sì che ce la farai un po' di un po' di un po' di un po' di uno 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 ed eccoci a Cassio un po' di uno e e un po' di uno 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 e un po' di uno 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 e un po' di uno 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 e e un po' di uno un po' di uno di uno un po' di uno e Grazie a tutti 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 Grazie a tutti